Questo libro nasce proprio dall'esigenza di ricongiungere le mie due vite, quella che era la giornalista di una volta, quella che è l'operatore socio-sanitario di adesso. Ho voluto raccontare quello che avevo vissuto. Io ho vissuto fin dal primo giorno i tempi del Covid, quindi allestendo i reparti, fin da subito senza sapere quasi neanche dove mettere le mani, all'accoglienza dei pazienti spaventatissimi e noi ancora più spaventati di loro perché chiaramente non sapevamo cosa fare. Quando io ho preso il Covid mi sono ritrovata a casa dopo un anno in pieno burnout, quello che è lo stress psicofisico dell'operatore che ha vissuto un'esperienza molto pesante, che ha tenuto duro, poi a un certo punto lascia gli argini. Io sono riuscita a superare questa situazione riaprendo finalmente, dopo vent'anni, il computer. Ho voluto raccontare quelle che erano le nostre emozioni di operatori, le emozioni dei pazienti e soprattutto il rapporto umano che si è creato tra noi e i pazienti. In questo libro ci sono, diciamo così, 40 ritratti di situazioni che abbiamo vissuto noi in questo reparto, in questo periodo. Quindi dalla vecchina che non sa usare il cellulare, che viene chiamata 50 volte dai parenti, chiaramente non potendo venire per vedere come stava, se mangiava, se beveva e tutto il resto. Alla ragazza completamente tatuata che si è fatta portare la pizza da Just Eat, ma la pizza non poteva entrare in ospedale, si è fermata sul muretto fuori dall'ospedale, andando poi in escandescenze. Ma che in fondo era amica della vecchina che era la sua compagna di letto. Oppure, cosa posso dire, il mio vicino di casa che ho ritrovato lì e che grazie a me si è sentito un pochino a casa, diciamo, e quindi è stato aiutato anche in questo percorso di, diciamo pure così, di sopravvivenza. Ho voluto descrivere le emozioni nostre e soprattutto il percorso di umanizzazione che noi tutti abbiamo avuto all'interno di questa, ripeto, dolorosa esperienza. Perché questo ci ha portato, ci ha portato ad essere persone che lavoravano con le persone.